Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Infatti ho finito di registrare la quinta parte, ho pubblicato la terza e ho fatto la quarta parte, così domani la pubblico subito. Allora, se noi andiamo in questa casa, qua è Drobrian da Stella, ma attenzione, aspettate, perché è ancora da vedere. Praticamente, aspetta, provo a far non verla a vedere, provo a fare così, ok. Praticamente, Stella lo sapete che dovrà andare, tipo, in un... cioè dovrà andare da qualche parte, nella terza parte. Infatti, poi lei incontrerà un sacco, un sacco di personaggi che sono davvero un sacco che per allincarvi serve il fine mondo, praticamente, l'internetità. E ora io vi faccio vedere. Praticamente lei poi andrà in un collegio, tipo, non lo so. E praticamente, qui spoiler solo qualcosina, lei vedrà un foglio e andrà in questo collegio. Solo questo, poi andrete a vedere la parte 4 che uscirà domani, perché domani... Spoiler, sì raga, spoiler. Allora, io intanto vi faccio vedere questa bellissima cosina. Allora, iniziamo dalla camera di... come si chiama, aspetta. Di Stella e un'altra persona che conoscerà in questo collegio. Eccolo qua. Qua ci sono dei regalini, già, che, come capite, sono trucchi, però vabbè. E praticamente qua c'è un altro regalino. No, anzi, questi non sono trucchi, scusatemi. Questi ho sbagliato a metterli là. Poi domani capirete cosa io ho regalato, cosa ho preso. Poi qua invece c'è una radio, tipo, per dire, tipo, la professione del collegio, tipo, e venite in aula, venite in cucina che è pronto, ecco questo. E qua invece c'è l'armadio di... Una persona che conoscerà, invece qua, l'armadio di Stella. Che qua ci tranno delle cosine, che potrà appendere l'aul. Poi, qua c'è l'aul, dove si possono riposare i ragazzi. Poi qua, vabbè, possono mangiare. Poi qua, se qualcuno vuole informazioni. E poi qua, praticamente, la stanza dei ragazzi. E poi qua un balcone per tutti. E quindi ora vi lascio degli spoiler. Oh mio Dio, che enorme! Sì, ma certo, voglio uscire con te. Oh mio Dio, che stanza pazzesca! No, aspetta, cosa mi metto? Vi prego di venire in presidenza, grazie. Ed ecco qua degli spoiler della parte 4.